In questo preciso momento storico, sociale, politico, economico, meteorologico, interpersonale, pluricosciente, c'è una cosa cruciale da fare. Tu sai perché il capo che non c'è ha detto che non siete abbastanza utile, chi che ha un'altra qua qua qua, invece tutti pensano di esserci vista. Faccio nulla da cazzo, cazzo, faccio nulla da cazzo. Cazzo, 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 faccio nulla da cazzo. Si al cazzo, 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 e faccio nulla da cazzo. Si al cazzo, 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 e alla figa di tua figlia. Grazie a tutti. Grazie a tutti.